L'apertura è uno dei tre parametri fondamentali che gestiscono l'esposizione della nostra immagine. Il diaframma, questo meccanismo ubicato all'interno dei nostri obiettivi, è responsabile sia della quantità di luce che riesce a passare attraverso il nostro obiettivo raggiungendo quindi il sensore, sia della profondità di campo nella nostra immagine, ovvero la porzione di immagine che risulterà a fuoco. Giusto per farvi un esempio, nell'immagine che state guardando in questo momento la profondità di campo è molto sottile perché io sono a fuoco ma lo sfondo rimane sfocato. Questo si ottiene mediante il diaframma. Nel corso del video di oggi andremo a vedere bene che cos'è, come funziona e come possiamo usarlo per ottenere le immagini che desideriamo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, faccio il fotografo di mestiere e su questo canale vi porto le mie esperienze lavorative e non in maniera tale che tutti quanti possiate beneficiarne e progredire nel vostro cammino fotografico. Cominciamo col dirci una cosa. Noi possiamo sempre sapere l'apertura massima della nostra ottica perché è sempre indicata. Per esempio questo è un 85 mm f1.4 e se andate a vedere sull'obiettivo da qualche parte sul frontale o sui bordi ci sarà sempre scritta l'apertura massima quindi qui ritroviamo scritto f1.4. L'apertura si comporta in maniera strana perché più il numero è piccolo e più il diametro è ampio. Quindi ne consegue che con un numero piccolo stiamo facendo entrare più luce. Noi possiamo regolare il diaframma o come vi ho fatto vedere all'inizio manualmente se abbiamo un'ottica manuale oppure lo possiamo regolare elettronicamente con le ghiere sulla nostra fotocamera. Vi lascio in sovraimpressione la scala degli stop perché comunque l'apertura si regola in stop proprio come tutti i parametri dell'esposizione. Che cosa sono gli stop? Gli stop sono semplicemente un'unità di misura che è stata dedicata all'esposizione. A noi non interessa tanto capire da dove viene quest'unità di misura. Quello che ci interessa capire è semplicemente che nel momento in cui noi sovraesponiamo di uno stop per esempio su un parametro dobbiamo bilanciare sottoesponendo sempre di uno stop su un altro parametro. Quindi questo cosa significa? Quando noi giochiamo con l'apertura andiamo a modificare l'apertura facciamo più tre stop sull'apertura? Dovremmo andare a togliere gli stessi tre stop dagli altri due parametri. Quindi possiamo togliere tre stop dagli ISO oppure possiamo togliere uno stop dagli ISO e due stop dai tempi. L'importante è che il totale sia sempre rispettato. Abbiamo detto che l'apertura regola la quantità di luce chiaramente che riesce a entrare nel nostro obiettivo e raggiungere il sensore. Chiaramente con un foro più grande o più piccolo la quantità di luce che entra è diversa. Ora mentre l'otturatore si occupa di quanto a lungo il sensore riceve questa luce quindi l'otturatore si apre e sta aperto tot tempo e per quel tot tempo la luce penetra e raggiunge il sensore. L'otturatore si occupa della durata mentre il diaframma si occupa della quantità per quella determinata durata. Questo ha un effetto drammatico sulle nostre immagini perché al di là del fatto che noi possiamo decidere quanta luce entra quindi possiamo usare l'apertura semplicemente per regolare l'esposizione. Questa è una cosa che succede magari siamo fuori in esterna stiamo facendo video quindi abbiamo il rolling shutter bloccato e quindi utilizziamo il diaframma per regolare l'esposizione della nostra immagine. Si può fare anche se non è mai la soluzione più felice del mondo quindi si può usare il diaframma solamente per regolare l'esposizione. Ma in realtà il vero beneficio nell'utilizzo del diaframma si ha quando lo utilizziamo per decidere che cosa mettere a fuoco e quanto deve essere ampia la nostra profondità di campo. Per esempio vedete che se io metto una mano qui la mia mano risulta sfocata rispetto alla mia faccia che sta qua. Se io metto una mano qui dietro parte che va in ombra anche questa mano non risulta perfettamente a fuoco. La profondità di campo in questo caso è abbastanza sottile sarà di una decina di centimetri forse anche meno è sufficiente a mettere a fuoco me e poc'altro perché se io metto la mano qui già vedete che non è più perfettamente a fuoco. Ora io sto utilizzando volutamente un diaframma aperto quindi sto scattando sto girando a f1.8 abbiamo detto numerino piccolo significa profondità di campo sottile. Se io volessi avere tutto quanto a fuoco fin dietro fin sullo sfondo quello che dovrei fare sarebbe chiudere il mio diaframma in maniera tale che con un foro più sottile la profondità di campo si estende e io riesco a mettere a fuoco se non proprio fino allo sfondo sicuramente riesco a mettere a fuoco da qui a qui. Ora parliamo dei limiti e dei problemi quando andiamo a utilizzare il diaframma. È vero che noi possiamo gestire il nostro diaframma in base alle nostre esigenze c'è troppa luce lo chiudiamo tutto c'è poca luce lo apriamo tutto ci sono però delle controindicazioni. È vero che noi possiamo utilizzarlo per gestire l'esposizione e la profondità di campo però c'è sempre una conseguenza e dobbiamo essere ben consci di quali siano queste conseguenze in modo da prendere le decisioni adeguate. Per esempio io in questo momento sto girando f 1.8 ma qui c'è troppa luce per girare f 1.8 quindi io ho dovuto abbassare l'esposizione in macchina utilizzando un filtro nd a vite. Ho messo un filtro davanti al mio obiettivo in modo da tagliare un po di luce così da poter aprire il diaframma e avere lo sfondo sfocato. Questa è una cosa che si fa molto proprio in esterni perché se io sto girando in esterna e c'è troppa luce perché è giorno e quindi dovrei chiudere il diaframma magari a f 22 se io chiudo tutto il diaframma a f 22 è vero che ho tutto quanto a fuoco ed è vero che ho tagliato la luce in entrata quindi ho abbassato l'esposizione però è vero anche che a f 22 l'immagine sarà più morbida perderà di definizione perché chiudendo tutto il diaframma entra in gioco un fenomeno che si chiama diffrazione che rende la nostra immagine molto morbida e non è mai particolarmente gradevole. Vero anche che se io giro a f 1.8 possono esserci dei problemi anche qui e qua non li vedete perché qua insomma lo sfondo è sfoccato e non si nota però se ci fossero dei controluce molto forti a f 1.8 è facile avere delle aberrazioni cromatiche e insomma dei fenomeni poco gradevoli. Questo cosa significa? Non dobbiamo mai scattare né alla minima né alla massima apertura. In realtà possiamo fare quello che vogliamo e vi dirò che io scatto abitualmente alla massima apertura e scatto abitualmente anche oltre f 13 quindi verso la minima apertura delle mie lenti. Ovviamente più è bello l'obiettivo più ci permette di fare queste cose. Un obiettivo da due soldi chiaramente si comporterà meno bene e presenterà più difetti. Vero è che questa è una regola generale tutti gli obiettivi giocando con il diaframma di solito dimostrano di avere il loro sweet spot si chiama il loro punto di massima nitidezza e di massima resa all'incirca due stop dopo l'apertura massima. Quindi se stiamo scattando a f1.8 la massima resa potrebbe essere verso f5.6 se stiamo usando un'ottica da f4 la massima resa potrebbe essere tra f8 e f11. Insomma più o meno a metà corsa o comunque due stop dopo l'apertura massima tutte le ottiche dovrebbero avere la loro resa migliore. Questo non vuol dire che dobbiamo usarle sempre in quello sweet spot così come non vuol dire che dobbiamo usarle sempre all'apertura minima e massima. L'apertura a mio parere deve servire unicamente a darci il tipo di immagine che vogliamo di difetti aberrazioni cromatiche vignettature varie mancanza di nitidezza ai bordi freghiamocene perché la cosa importante è avere l'immagine che vogliamo se io sto facendo un ritratto quello che mi interessa è avere il mio soggetto che si stacca dallo sfondo quindi apro il mio diaframma per avere il soggetto che viene fuori e lo sfondo che rimane sfocato viceversa se io sto facendo un paesaggio non voglio avere a fuoco soltanto una striscia di terra e poi tutto il resto dietro sfocato in quel caso vado a chiudere il diaframma per avere tutto quanto bello a fuoco stessa cosa se faccio fotografia di interni stessa cosa se faccio fotografia di prodotto se io sto fotografando un prodotto sto fotografando questo tappo non metto a fuoco soltanto la parte davanti perché poi il logo non si vede il dietro non si vede in prodotto lo voglio far vedere tutto quindi vado a chiudere il diaframma in maniera tale da avere tutto il mio soggetto perfettamente a fuoco anche nel ritratto ci sono dei ritratti dove si mette a fuoco l'occhio e il naso e l'orecchio sono già sfocati si può fare però bisogna farlo con consapevolezza deve essere quello che vogliamo fare a questo punto io vi chiedo come sempre avete domande su questo o su altro lasciatemele qui sotto sarò felice di rispondervi testualmente o con degli shorts verticali motivo per cui vi invito nuovamente a iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto vi consiglio anche a questo punto di andarvi a vedere andarvi a recuperare il video sui tempi che ho già fatto uscire e i diversi video sugli iso che ho già pubblicato adesso quando finirà il video rimarrà in sovraimpressione il video sui tempi che vi consiglio di andare a recuperarvi subito così vi fate una bella infarinatura generale amici è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video ciao